Ulisse? No, no e no, con Ulisse non ci sto! Guarda, è una perfettissima trappola per leoni. Un pollo, due guantoni da box, due seghe e una rete. Il leone nel prendere il pollo tira il filo che sgancia le molle dei guantoni. I guantoni gli danno un sacco di cazzotoni. Intanto fanno funzionare le due seghe che segano gli alberi. Quando gli alberi cadono, la rete gli piomba addosso e io lo catturo. Cosa ne dici della mia trappola? Ehi, la solita è questa festa, via, ottene via, urga me. Mamma! Un leone vegetariano. Come? Avanti, bestiaccia. Prendi quel pollo e fate il fiore. Avanti. Che schifo a te. Ulisse? Avanti, ti dico, prendi quel pollo. Allora, prendi questo. Ulisse, come ha funzionato la trappola? L'ha catturato lei, il leone. Ulisse, devi imparare a comportarti con calma, con la calma si arriva a tutto, anche a catturare i leoni. Segui il mio consiglio, bevi solo caffè Hug. Ma dove lo prendiamo? Anche qui. Due caffè Hug in bustina. Caffè Hug, purissimo caffè senza caffeina. Salva il cuore, consente il sonno, non agita i nervi. Al bar esigete caffè Hug nella confezione in bustina. Solo la bustina vi garantisce l'originalità del prodotto. E in casa, caffè Hug nella tradizionale confezione in barattolo. In tutto il mondo, caffè Hug.